Quando dopo un po', quando ha fatto ghosting e quando è sparito, poi il narcisista ritorna e allora di nuovo lì utilizza WhatsApp. E poi utilizza anche WhatsApp per farti vivere i sensi di colpa, per dirti delle frasi del tipo «Eh beh, ma io te l'avevo detto, tu ti comporti male nei miei confronti, fai questo, fai quello». Insomma, utilizza tutta una serie di frasi per, diciamo, penalizzarti. Quindi WhatsApp è usato tantissimo dal narcisista e porta, diciamo, che lo utilizza per mille motivi, per mille modi. Per far vivere i sensi di colpa è specializzato. Tu ti comporti male nei miei confronti, io te l'avevo detto. Poi WhatsApp viene anche utilizzato con gli stati, no? Perché varierà gli stati WhatsApp per, ad esempio, metterti degli antagonisti, per farti credere che ci sono, farti credere che poi il narcisista ha sempre degli antagonisti. Non ti crede che non abbia antagonisti, anzi, cioè è naturale che abbia degli antagonisti il narcisista. Cioè che utilizza degli antagonisti per farti stare male, fondamentalmente. Questa è una delle pratiche più usate, no? Che il narcisista utilizza maggiormente. Quella di cercare in qualche modo di somministrarti forti tensioni utilizzando i narcisisti, utilizzando gli antagonisti. Quindi gli antagonisti chi sono? Beh, sono persone che magari, diciamo, lui utilizza, sono le cosiddette scimmie volanti, no? Che lui utilizza anche talvolta per metterli contro di te. Quindi magari crea addirittura dei gruppi WhatsApp, dove se tu sei presente verrai in qualche modo squalificata, insomma. Perché comunque quindi è uno strumento che il narcisista utilizza molto, utilizza spesso, per, diciamo, in tutte le fasi. Nell'off bombing ti manda anche canzoni romantiche, canzoni sdolcinate, ti manda vocali, ti manda cazzi e mazzi, diciamo, no? Legge subito i tuoi messaggi. Poi, ripeto, nella fase di squalifica, invece, o nella fase di isolamento, viene anche utilizzato WhatsApp per dire, guarda, ho saputo questo, ho saputo quello. Parlano male di te, insomma, cerca di seminare il design in tutti i modi. WhatsApp ovviamente è uno strumento, non è che è un nulla di più. Però il narcisista lo utilizza moltissimo. È molto di più, magari, di altri social, perché comunque è una comunicazione one to one, anche se, spesso, se tu fai parte di gruppi dove è presente lui, potrebbe arrivare a squalificarti, a farti togliere, magari, da alcuni gruppi. Insomma, ci sono tutta una serie di strategie che funzionano molto bene. Ecco quello che devi fare.